Al di là delle valutazioni di carattere politico che possono esserci alla base di questa scelta di Lombardo di autodenunciarsi rispetto alla vicenda delle firme, della sottoscrizione, il dato che emerge è che di fatto questa amministrazione a quanto pare è partita col piede sbagliato, diciamo così. Sì, assolutamente. Noi abbiamo fatto un'opposizione seria e trasparente. In effetti, con tutta la buona volontà, non crediamo che il Gennaro Ricursi sia il sindaco adatto a questo paese, anche perché si è abbrancolato nel buio, non ha prodotto nessun cambiamento serio sia all'interno che all'esterno, perché non poteva produrlo. Tant'è vero che noi siamo stati anche molto vicini, abbiamo cercato anche di essere collaborativi al massimo, ma abbiamo capito che purtroppo anche la squadra che lui aveva costituito non era all'altezza. Quei due o tre assessori che gli giravano intorno brancolavano nel buio, hanno preso iniziative che noi abbiamo avversato e quindi a questo punto è meglio che liberi il paese da questa incombenza che si sono prese e che nessuno gli ha chiesto. Come giudica in generale questa vicenda, questa vicenda delle firme? La vicenda delle firme è una cosa che è una tristezza, direttore, una tristezza perché non pensavo che si potesse arrivare a tanto. È una truffa, bella e buona nei confronti dei cittadini di Scalea e di chi veramente credevano in un cambiamento. La giudico in maniera misera, uno squallore della peggiore razza perché perpretata, ripeto, a danno di cittadini che forse anche chi l'ha votati pensavano che fossero immuni da questioni di questo tipo e che sprono adesso a cambiare atteggiamento magari avvicinandosi a noi. Lei ha parlato chiaramente da parte dell'opposizione ferrea di richiesta di dimissioni da parte del sindaco. Sì, noi crediamo che le dimissioni siano giuste, politicamente giuste. La denuncia farà il suo corso, gli organi competenti sono stati chiamati a rispondere tant'è che il denunciante consigliere Renato Lombardo si è preso le responsabilità quindi è una vicenda che avrà il suo corso. Chiaramente dal punto di vista morale, etico e civico credo che un sindaco che venga imputato, chiamato a rispondere ad una faccenda così grave da un componente della propria lista, quindi da una persona che al di fuori di ogni sospetto possa dichiarare o millantare chissà quale cosa insomma credo che a livello morale se io fossi al suo posto la prima cosa che farei mi diventerei.